che effetto possono avere sul mondo del lavoro grande forte sia in positivo che in negativo ora gli stessi creatori di chat gpt si sono preoccupati di fare un calcolo per esempio negli stati uniti di quante persone potrebbero avere un effetto sul loro lavoro e risulta che attualmente l'ottanta per cento dei lavoratori americani potrebbe risentire nel bene o nel male di dei programmi di intelligenza artificiale per un peso sul loro lavoro che va da un minimo del 10 per cento a un 50 per cento per un lavoratore su cinque questo vuol dire che chissà usare questi programmi può effettivamente diventare più produttivo più veloce più efficiente tranne beneficio ma ci sono intere categorie di persone che rischiano di finire fuori dal mercato quali sono queste categorie chi corre maggiori rischi beh intanto tutti coloro che hanno un lavoro basato sulla cercare delle informazioni per trarre delle conclusioni banalmente anche chi fa un lavoro da impiegato e per esempio deve analizzare dei documenti per decidere se qualcuno ha diritto a un credito piuttosto che una qualche agevolazione questo è un tipo di lavoro che può essere facilmente sostituito dalle macchine possono essere sostituiti lavori creativi appunto quelli dei grafici o quelli dei creatori di testi i giornalisti noi soprattutto quelli alle prime armi a cui viene chiesto di raccogliere delle informazioni per esempio fare un articolo di contesto spiegare come sono andati i rapporti fra stati uniti e iran un giornalista può metterci una giornata a fare un contesto storico di questo tipo il programma intelligenza artificiale uno disegnato per bene può impiegare pochi secondi i giovani procuratori quelli che devono raccogliere i casi giudiziari per diciamo raccogliere il materiale per discutere un nuovo caso i giovani praticanti avvocati però proprio i giovani praticanti avvocati sono il caso che dimostra che bisogna anche andarci piano perché e perché negli stati uniti uno studio legale peraltro formato da avvocati esperti appena fatto una figuraccia planetaria perché si era rivolto proprio a chat gpt per trovare i precedenti che lo aiutassero a difendere un loro assistito solo che appunto come dicevo prima chat gpt è un'applicazione per così dire creativa che quindi non si limita a riferire delle cose che sono accadute all'occorrenza le crea e in questo caso proprio il programma ha creato questi precedenti che però non esistevano e quindi la controparte ha impiegato un istante per distruggere gli hanno fatto capire qual è l'importanza dell'essere umano dimostra due cose tre l'importanza dell'essere umano e poi l'importanza di avere persone che sanno usare questi programmi e che quindi conoscono i limiti e il giusto utilizzo ma anche l'importanza che avrà in futuro il lavoro di coloro che sapranno sviluppare programmi di intelligenza artificiale effettivamente utili alle specifiche professionalità quindi magari o che controllano che le fanno sempre meglio controllare sempre meglio che lo faccia un umano ma che comunque non inventino e che riescano a tirar fuori dei casi che sono reali e allora diciamo pragmatica